Sono perfetto. Alcune persone pensano che essere perfetti sia qualcosa di cui vantarsi sono un perfezionista, anch'io facevo così te lo confesso, anch'io ero fissato avevo un periodo della mia vita che ho vissuto nella perfezione, perfezione che mi ha bloccato da diverse cose che scoprirai tra qualche secondo. Quello che intendo dire io in questo momento è la ricerca, la pignoleria eccessiva soprattutto al lavoro, il cercare continuamente qualcosa da migliorare invece di andare avanti. Adesso non mi devi fraintendere perché controllare diverse volte il lavoro che stai facendo è utile e quindi dovrebbe essere una cosa normale non qualcosa di cui vantarsi, però una volta che oggettivamente quello che stiamo facendo ha raggiunto dei buoni standard è inutile bloccarsi, bisogna andare avanti. La perfezione non esiste anche se controlli il lavoro 200 volte c'è sempre un margine d'errore. Conosco persone, ho visto persone che hanno letto 200 volte ad esempio un'email e poi hanno commesso comunque un errore. Quali sono sostanzialmente i due limiti della perfezione? Il primo limite è che la perfezione non ti consente di delegare, non ti consente di delegare il lavoro agli altri perché credi che nessuno possa svolgere il lavoro secondo i tuoi canoni, secondo i tuoi standard e questo capisci cosa significa che accumuli, accumuli il lavoro a volte anche inutile. Lavoro che potresti dare ad altri lo stai facendo tu. Secondo limite è che la perfezione non ti consente di muoverti neanche perché ti inventi quella balla estrema, io le cose le faccio bene altrimenti non mi muovo la conosci? Ecco quella balla lì ti tiene bloccato perché è chiaro che non puoi essere perfetto per cui non parti mai e rimandi oppure in dieci anni ne fai due di cose quando avresti potuto farne quattro cinque solo perché la perfezione ti ha bloccato. Suggerimenti veloci, si realista in quello che stai facendo, quando il tuo progetto, quando la tua idea ha raggiunto degli standard fermati lì, è inutile cercare sempre qualcosa da migliorare. Dividi i grandi obiettivi in piccoli obiettivi in modo che tu possa prendere ogni singolo obiettivo e gestirlo con il tuo tempo a disposizione. Quando tu gestisci il tuo tempo riesci anche a capire quanto tempo stai dedicando ad un'attività quindi eviti di perdere quel tempo, di andare oltre con il tempo nel perfezionare qualcosa che forse non è necessaria o che magari è inutile arrivare a quei livelli. Ultima cosa appena puoi delega i compiti di routine. Non è sempre facile ma appena ti è possibile delega le attività ricorrenti, le attività che puoi tranquillamente assegnare, delegare ad un'altra persona. Quindi basta perfezione. Quanto l'abbiamo fatto questo video? 300, un'altra volta, un'altra volta... ... ... ... ...